Musica Buonasera TG regionale, un'ondata di maltempo si è abbattuta dalle primi ore del mattino nel Foggiano dove la neve ha imbiancato le vette più alte della Capitanata. Neve anche a Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lannis. Le località maggiormente colpite dall'ondata di maltempo sono Faeto. Dalla provincia fanno sapere che si è messa in moto anche la macchina dei soccorsi con mezzi spargisali e spazzaneve che hanno reso percorribili le principali arterie stradale. In questi comuni i sindaci hanno emanato ordinanza di chiusura delle scuole. L'inverno comincia a fare sul serio e torna ad imbiancare il Gargano e i Monti Dauni con la prima neve del 2023. Numerosi comuni che stamani si sono risvegliati sotto la coltre bianca e non sono mancati neanche gelo, piogge e forti raffiche di vento soprattutto nelle coste garganiche confermando le previsioni meteo per questo weekend. In tutti i comuni dell'Appennino Dauno le scuole sono rimaste chiuse con la possibilità che l'ordinanza venga estesa anche ai prossimi giorni. Faeto, Anzano, Alberona, Roseto, Valfortore dove sono stati rimandati i famosi attesi fuochi di Sant'Antonio e poi ancora Monte Leone, Accadia, Bovino, Castelluccio, Orsare e Volturino, tra i borghi più colpiti dalle abbondanti nevicate e dove per tutta la notte i mezzi Spargisale e Spazzaneve della provincia hanno lavorato per liberare da neve e ghiaccio le arterie più importanti, tormente e tempeste di neve anche sul promontorio del Gargano di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco Illamis, San Nicandro e Rignano Garganico. Nelle strade provinciali, statali e sui tratti delle autostrade, A14 e A16, al momento non si registra nessun disagio particolare e si circola solo con equipaggiamento invernale. Insomma, dopo mesi di caldo anomalo e fuori stagione, il generale Inverno e la Dama Bianca hanno fatto la loro prepotente ricomparsa non risparmiando nemmeno le aree più pianeggianti in cui si registrano temperature polari. E dalla Puglia alla Basilicata a causa del maltempo ma anche delle nevicate che si stanno registrando in Basilicata nel Potentino in modo particolare. Le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni, tra cui il capoluogo di Regione. Una mareggiata a Maratea ha causato gravi danni alla centrale elettrica. La prima neve dell'inverno è caduta la notte scorsa sul capoluogo di Regione più alto d'Italia, tanto da obbligare il sindaco di Potenza Mario Guarente a chiudere precauzionalmente le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili, nidi e università. Stessa decisione è stata presa dai primi cittadini di altri 20 comuni del Potentino, Anzi, Bella, Rapone, Tito, Sanfele, Pesco Pagano, Rotonda, Lauria, Abriola, Rivello, Trecchina, Maratea, Latronico, Moliterno, Vigianello, Vigiano, Marsico Vetere, Muro Lucano e Ruoti. Nella mattinata a Potenza non si sono registrati particolari disagi alla viabilità, anche se il peggioramento previsto per la giornata di domani su tutta la regione ha messo in moto la macchina della protezione civile del comune e della provincia. Nel capoluogo sono state infatti previste alcune postazioni fisse con mezzi per il trattamento del ghiaccio e spazzaneve, sia presso l'ospedale San Carlo che lungo i viadotti più trafficati. Il maggior pericolo in questo momento è rappresentato dalla formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi. Sempre a causa del maltempo, a Maratea una mareggiata ha danneggiato la centrale elettrica della zona del porto e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il comune, lo ricordiamo, era stato già interessato il 30 novembre scorso da una frana che ha provocato la chiusura della statale 18. E ci spostiamo su Taranto, alberi sdradicati, pali della pubblica illuminazione abbattuti. Sono alcuni dei danni causati dal forte vento. Il maltempo imperversa sull'area ionica, improvviso abbassamento delle temperature a Taranto e in provincia. Disagi in particolare a causa del forte vento che ha spazzato il litorale. Il bilancio nelle immagini di Francesco Manfuso. I danni più rilevanti sulla litorane salentina, dove sono stati divelti alcuni pali della pubblica illuminazione, poi finiti sulla carreggiata, nei pressi della spiaggia di Lidochecca. I vigili del fuoco di Taranto sono stati costretti ad intervenire con numerosi uomini e mezzi specifici in diverse circostanze. A Lido e Silvana il forte vento ha abbattuto una decina di alberi, rimossi dopo diverse ore di intervento. Le mareggiate si sono verificate prevalentemente sulla costa orientale, dove il forte vento ha provocato disagi ai cittadini residenti. Problemi anche in città. Tantissime le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Una raffica di vento ha improvvisamente spalancato le finestre del Salone degli Specchi a Palazzo di Città, scardinandole. Anche qui è stato necessario l'intervento dei pompieri. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore. E sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 22 gennaio, allerta gialla su diverse regioni del Meridione, in particolare Basilicata e Puglia. E cambiamo decisamente argomento, Foggia ha annunciati 140 licenziamenti. Noi la prima cosa che dovremmo chiedere all'azienda in questo caso, perché ha preso in maniera unilaterale una decisione secondo noi non saggia, cioè quella in pratica di mettere in liquidazione l'azienda e il licenziamento collettivo di tutte le persone. E' caos allo stabilimento GNV Electric di Foggia, a seguito della comunicazione da parte della direzione aziendale relativa alla procedura di licenziamento collettivo per 114 lavoratori. Poiché, a detta dell'azienda, la situazione economica e finanziaria della società è sempre stata di altissima gravità e gli alti costi di produzione acuiti dalla pandemia e dalla crisi energetica sono divenuti nel tempo insostenibili. Le segreterie territoriali di FIM, FIOM e WILM esprimono la loro netta contrarietà rispetto alla decisione di porre la società in stato di liquidazione volontaria e proclamano otto ore di sciopero per la giornata di lunedì 23 gennaio con presidio presso la sede di Confindustria Foggia. Il vero motivo di questa situazione è il caro Energia e soprattutto il monocommittente che noi abbiamo, Enel, il quale non fa gli adeguamenti dei prezzi che sono ovviamente lievitati. C'è un quadro che noi produciamo dove abbiamo fatto dei contratti tre anni fa, si dovrebbe fare l'adeguamento dei prezzi, però come l'ha escogitato il sistema Enel alla fine è un minimo di riconoscimento per cui noi ogni quadro che produciamo per Enel ci sono delle perdite. Più produciamo, più perdiamo. Noi quello che chiediamo all'azienda è di prendere tempo, di aprire un tavolo di trattativa affinché si faccia magari una cassa integrazione per poter prendere tempo e cercare una soluzione condivisa con loro e anche con noi per non mettere tante persone perché non siamo solo 114 persone, dobbiamo parlare di altre 30 interinali che hanno famiglie che sono a lavorare qui da noi almeno dal 2017 e queste persone hanno famiglie anche loro ed oltre a loro c'è l'indotto dove noi poi passiamo a altro lavoro terzializzato. E ci spostiamo a Lecce, un importante dibattito, meglio ci si interroga, su quale futuro deve avere l'Europa. Per celebrare gli 80 anni del manifesto di Vento Tene, atto di nascita del federalismo europeo come movimento politico, la Maison Monnet, Parlamento europeo, ha pubblicato il volume Vento Tene 80 che in sei saggi analizza il ruolo del manifesto di Vento Tene sulla costruzione europea del dopoguerra. Se ne è parlato all'Università del Salento nel corso dell'incontro la lunga strada dell'integrazione europea, dal coraggio dei fondatori alle sfide del presente e dall'appuntamento ha preso parte il ministro Raffaele Fitto. Ecco, qual è la prossima sfida a livello europeo? Il 9 e 10 di febbraio c'è un Consiglio europeo fondamentale, non solo per il nostro paese ma per l'intero continente europeo che affronterà le questioni collegate alla risposta europea dal punto di vista economico, agli interventi che ci sono stati soprattutto negli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act ma anche con altri provvedimenti e interventi a livello internazionale e poi con la grande sfida che è il secondo punto all'ordine del giorno dell'immigrazione. Il nostro paese lavorerà, il nostro governo, per trovare punti di convergenza con gli altri governi per avere una sintesi che parta da un elemento che è quello di aver ottenuto già di per sé e che questi punti siano all'ordine del giorno e del Consiglio straordinario. Ed ora parliamo della democrazia che deve essere trasparente, il diritto all'informazione è un diritto fondamentale, tra l'altro previsto anche dalla Costituzione. E' quanto ha dichiarato durante l'evento dal titolo L'Antimafia Sociale in Puglia il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi. Per cui insegnare ai ragazzi, ai bambini, la capacità di affrontare cultura mafiosa, di analizzarla, di saper rispondere, di non avere paura di fronte a certi fenomeni anche sociali, anche che si sviluppano tra i piccoli, pensiamo al bullismo, al cyberbullismo è importantissimo perché bisogna togliere l'acqua nella quale la mafia sopravvive. Così il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, al termine dell'evento L'Antimafia Sociale in Puglia, organizzato al quartiere San Paolo dal Municipio 3 con il patrocino della Regione Puglia, della città metropolitana e del Comune di Bari e dell'Associazione Libera. Obiettivo l'educazione alla legalità e la cultura dell'antimafia. Hanno partecipato numerosi studenti. Abbiamo una struttura comunale che si occupa di antimafia sociale e incontra soprattutto i ragazzi, le nuove generazioni, spiegando che non c'è futuro per i criminali che o muoiono oppure finiscono in galera per il resto dei loro giorni. Lo facciamo stando insieme, cercando di coinvolgere le associazioni, le scuole, le parrocchie e oggi qui ci sono anche tutte le istituzioni. I giovani sono i primi a rischio e noi lo sappiamo, soprattutto i giovani di famiglie anche che non hanno mai avuto problemi oggi, in passato, con le mafie. Però questi figli, col miraggio a volte del lavoro, del guadagno facile, sono facile preda della cultura mafiosa. All'evento hanno partecipato il generale Stefano Spagnol, comandante della Regione Carabinieri Puglia, il governatore Michele Emiliano, il quale ha detto oggi siamo la regione che investe più soldi nell'antimafia sociale, 30 milioni di euro nell'ultimo periodo, sempre sostenuti da chi svolge l'attività repressiva. E ci spostiamo a Taranto, ennesima aggressione ai danni di un autista dell'AMAT a Taranto, nel giorno in cui, rivendicando proprio la sicurezza sul luogo di lavoro, era stato indetto uno sciopero a seguito delle settine di protesta. Prima il diverbio, poi gli insulti, fino alle mani. Ancora una volta l'autista di un bus di linea urbano di Taranto è stato aggredito. È successo intorno alle 10.30 di oggi, nella giornata in cui si sciopererà dalle 20 alle 24 proprio per il tema della mancata sicurezza. Ad aggredire il dipendente di Chima Mobilità non è stato un passeggero ma un automobilista. Il tutto sarebbe partito a bordo dei mezzi per un'incomprensione. L'inseguimento in via Galeso, al quartiere Tamburi, fino alla prima fermata utile dove l'uomo ha raggiunto l'autista per inveirgli contro, fino ad arrivare alle mani. La vittima si è difesa come ha potuto, poi l'intervento della polizia per sedare gli animi. Paura tra gli utenti della linea 11 a bordo, un episodio che riaccende l'emergenza, rilanciata soltanto ieri dai sindacati di categoria, con un sit-in dinanzi alla sede AMAT di via Cesare Battisti. L'autista si trova al momento al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. E nelle indagini che riguardano le maxitruffa, l'assicurazione è una parte rilevante dell'inchiesta è basata su una telecamera collocata dai carabinieri di Brindisi in un ambulatorio dell'Inail all'interno del quale lavorano anche alcuni dei medici finiti sotto inchiesta. Una telecamera dei carabinieri per mesi è stata nascosta nell'ambulatorio di uno dei medici legali dell'Inail in via Palestro, nel centro di Brindisi. In questo modo gli investigatori avrebbero documentato uno snodo fondamentale delle truffe alle assicurazioni con falsi incidenti stradali, quello relativo alla complicità dei medici fiduciari delle stesse compagnie che avrebbero riconosciuto danni e invalidità fittizi per far ottenere risarcimento cospicui a persone segnalate dall'organizzazione. Ovviamente questi medici, due in servizio presso l'Inail di Brindisi e uno dirigente presso la direzione sanitaria dell'ospedale di Francavilla Fontana, ottenevano un compenso per ogni prestazione illecita svolta. Nell'inchiesta Cresch, condotta dai carabinieri della compagnia di Brindisi e coordinata dal sostituto procuratore Luca Miceli, proprio medico legale dell'Inail, da oltre dieci anni consulente anche della procura e dunque considerato professionista di massima fiducia, è ritenuto al vertice del sistema, alla stregua dell'avvocato che l'ha ideato. Il medico legale avrebbe coordinato tutta la fase finale della truffa, essendo gli stesso fiduciario di alcune compagnie assicurative e coinvolgendo nell'attività illecita i suoi colleghi referenti delle altre. Dalle videoregistrazioni si vedrebbe chiaramente il momento in cui il medico conta il denaro ricevuto, una parte del quale poi, sempre nel suo ambulatorio, tiene per sé e una parte consegna ai complici. Prima di arrivare alla quantificazione del danno, altri medici, pure loro parte integrante dell'organizzazione, avevano reso credibili i falsi incidenti con referti di pronto soccorso e di esami strumentali, con cui attestavano i danni subiti dai personaggi indicati volta per volta dall'avvocato e altri legali provvedevano a istruire le pratiche. Un sistema perfetto, dunque, nel quale non mancava il contributo di personaggi di spicco della criminalità locale. Erano loro la cerniera tra i professionisti in camice bianco e in toga e le teste di legno che accettavano di prestarsi per qualche centinaio di euro a simulare i falsi incidenti. Il loro carisma criminale, infatti, serviva da deterrente a chi, incassati i risarcimenti cospicui, potesse essere tentato dal tenere davvero per sé l'intera somma ricevuta. E ci spostiamo a Taranto. È stata inoltrata da un comitato cittadino alla procura di Taranto una richiesta di informativa sull'esposto denuncia sottoscritto da 216 cittadini che riguardano la realizzazione del porticciolo turistico in zona Blandamura-San Francesco degli Aranci. C'è un gruppo di Tarantini che non si arrende al nuovo volto che sta assumendo la pineta Blandamura. La pineta e la scogliere pubblica lasceranno spazio di un porticciolo turistico, il progetto è antico, ma sta andando avanti. Si è costituito il comitato San Francesco degli Aranci che denuncia illegittimità nel progetto. Si tratta di un suggestivo tratto di costa nel Tarantino, come vi avevamo raccontato nei nostri servizi negli anni precedenti. C'è una rigoyosa pineta che dirada verso il mare, nel cui specchio acqua e adiacente insiste anche la presenza di un posido nieto protetto come sito di interesse comunitario. In un esposto i cittadini avevano denunciato il presunto mancato rispetto delle norme previste dal PPTR e dalle prescrizioni imposte dalla Regione Puglia nelle conferenze dei servizi, nonché la legittimità degli atti rilasciati dal commissario d'acta Tommaso Blonda nel 2015 e dal Comune nel 2019. All'esposto del 1 settembre dello scorso anno non c'è stata risposta, dunque oggi si insiste. Una vasta zona è diventata lunare, la macchia mediterranea è stata sradicata. Adesso abbiamo inoltrato alla Procura una richiesta di informativa per venire a conoscenza di quali siano le intenzioni della Procura del merito. Abbiamo ribadito comunque la necessità di fermare immediatamente i lavori e di sequestrare dell'area. Tra l'altro noi abbiamo anche denunciato che probabilmente vi è illegittimità nel rilascio degli atti. Quella è un'area percorsa dal fuoco, quindi le autorizzazioni non potevano essere concesse. Di fatto si è operata una variante perché quella è una zona speciale A3 che è diventata area di attrezzatura nautica. E ci occupiamo ancora una volta del porto di Brindisi, decisivo passo in avanti per quanto riguarda la realizzazione della vasca di colmata nel porto di Brindisi. Lo che del Ministero dell'Ambiente rappresenta di fatto un passaggio decisivo per questa infrastruttura ritenuta davvero strategica per quanto riguarda il porto ma anche per l'intero territorio. E quanto ha commentato l'onorevole Mauro Dattis, il servizio di Fabrizio Caglianello. La cassa di colmata è un'opera strategica del porto di Brindisi. Riuscimmo nella scorsa legislatura a farla finanziare col fondo complementare del PNRR, a far nominare un commissario anche per la realizzazione dell'opera. Diverse decine di milioni di euro sul porto di Brindisi. Il delicato iter politico-amministrativo per la realizzazione della cosiddetta vasca di colmata nel porto di Brindisi ha fatto un ulteriore passo avanti, uno step probabilmente decisivo per la realizzazione di un'opera che molti definiscono strategica per lo sviluppo del porto e dell'intero territorio. Un'infrastruttura che sarà realizzata interamente con i fondi del PNRR. Il deputato Mauro Dattis, ai nostri microfoni, fa il punto della situazione dopo il nuovo ok giunto dal Ministero dell'Ambiente. Adesso la cassa di colmata può essere realizzata, si stanno completando gli ultimi passaggi amministrativi e autorizzativi, ma soprattutto la cassa di colmata servirà a raccogliere tutta la parte risultante dei dragaggi del porto che permetteranno la costruzione e la realizzazione di altre banchine come per esempio i nuovi accosti di Santa Polinare che daranno poi spazio all'arrivo di tante altre navi, comprese le navi di traghetto e le navi da crociera. Di fatto però è un'opera che non ha messo tutti d'accordo? Sì, ci sono state posizioni diciamo critiche. Io sin dall'inizio ho sostenuto questa opera, la ritengo un'opera strategica per il porto di Brinsi. Per me il porto di Brinsi non è il lago dei Cigni, ma è il porto dove devono trafficarsi le merci, i passeggeri, gli yacht, la cantieristica, quindi tutto ciò che riguarda anche il polo industriale di Brinsi che è uno dei poli industriali più importanti del Mezzogiorno d'Italia. Quindi chi vuole cancellare questa qualità, questa caratteristica della città di Brinsi per me fa un grave danno alla città. Ed ora ci occupiamo di un'altra importante opera strategica per quanto riguarda il Salento. Si tratta di un'opera strategica ma anche di grandissima importanza. Così il presidente Michele Emiliano sulla strada statale 275 nell'ultima conferenza dei servizi ha proprio evidenziato che presto ci sarà l'intesa con la regione Puglia per bandire entro marzo la gara per l'intero primo lotto. Per la 275 dopo circa 30 anni vari intoppi e rinvii presto potrebbe esserci una svolta e un passo importante potrebbe essere a marzo. Nell'ultima conferenza dei servizi infatti il presidente della regione Michele Emiliano che ha ribadito come questa su un'opera strategica ha evidenziato che al più presto porteranno in giunta gli atti affinché lui stesso possa sottoscrivere l'intesa alla progettazione definitiva del primo lotto. Di modo che il commissario straordinario Vincenzo Marzi possa poi bandire entro marzo la gara per tutti i 23 chilometri da maglie a tre case. Il primo lotto va ricordato che è articolato in tre stralci che sono alla progettazione esecutiva anche se c'è il problema dei costi che andrà affrontato poiché a causa dei rincari il prezzo è arrivato a 351 milioni ma ad oggi sono disponibili 265. Una soluzione a questo al vaglio della regione potrebbe essere che bandendo una gara unica per l'intero lotto a questo potranno essere destinati anche i ribassi d'asta della gara o in ogni caso si avrebbe modo di avviare l'opera e cercare insieme al governo gli 86 milioni di euro mancanti. Il secondo lotto da Montesano, Salentino, Andrano fino a Santa Maria di Leuca è invece ancora in fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Per quanto riguarda il tracciato denominato Alternativa 3 questo è stato condiviso dai comuni e prevede il passaggio dalla statale ad ovest di Tricase nel territorio di Lucugnano. Il direttore generale di fede e meccanica ha visitato alcune aziende della provincia di Lecce, un comparto eccellente ha detto ma servono però più infrastrutture. Il settore metalmeccanico della provincia di Lecce si sta dimostrando un comparto resiliente e dinamico. Dal 2014 al 2021 ha visto un incremento degli addetti passati da 5.611 a 6.851, mentre il numero delle aziende sul territorio sono in lieve flessione da 1.434 a 1.317. Punto debole restano però le infrastrutture come ha sottolineato il direttore generale di fede e meccanica Stefano Franchi che accompagnato dai rappresentanti di Confindustria Lecce ha fatto visita ad alcune aziende del territorio. Noi qui abbiamo a Lecce aziende eccezionali però si fa fatica a raggiungere le nostre aziende e questo è solo un esempio per non parlare del resto. La parte logistica è sicuramente un fattore critico oggi per essere competitivi e questo è un elemento di criticità e di svantaggio per chi fa impresa nel sud. Oltre ad investimenti nelle infrastrutture ha sottolineato Franchi il governo deve intervenire anche con riforme strutturali. Non abbiamo bisogno di segnali ma di misure che lasciano il segno. Faccio un esempio cuneo fiscale, taglio del cuneo fiscale servono misure sostanziali, non bonus o cose simili. Poi serve puntare sulla crescita delle nostre imprese, la crescita dimensionale delle nostre imprese. Ad esempio anche il ruolo della CDP potrebbe essere importante in quest'ottica. Necessario infine investire sull'innovazione. Qui servono politiche industriali degne di questo nome che puntino appunto sulla ricerca sviluppo, che puntino a sostenere non solo la domanda con gli incentivi ma soprattutto l'offerta. E ci spostiamo ancora nel Salento. Molesti e sessuali su uno scuolabus arrestato un uomo di 49 anni. Avrebbe adescato adolescenti per ottenere prestazioni sessuali. Il protagonista sarebbe l'autista di uno scuolabus e sarebbe accaduto nel sud Salento. Una vicenda che avrebbe portato all'arresto di un uomo di 49 anni, conducente di un pulmino usato per accompagnare gli studenti alle scuole superiori di Casarano. Le indagini sono state svolte dai carabinieri coordinate dal pubblico ministero Luigi Mastroniani e secondo quanto emerso l'uomo avrebbe sistematicamente molestato ragazzini di 14, 15 e 16 anni, ragazzi che accompagnava costringendoli a compiere atti sessuali e parpeggiandoli nelle parti intime. Alcuni episodi, secondo le indagini, si sarebbero verificati anche a casa del 49enne. L'autista avrebbe inviato inoltre messaggi su WhatsApp a sfondo sessuale, messaggi che avrebbe poi chiesto di cancellare. Una volta raccolte le denunce ed effettuati gli accertamenti, la procura di Lecce ha chiesto l'emissione di un provvedimento cautelare in carcere. Il giudice, Laura Liguori, ha disposto i domiciliari. Sono sei le presunte vittime e altrettanti i capi d'accusa. I fatti risalgono a un arco temporale che va dal 2016 al 2022. I carabinieri nei mesi hanno acquisito gli elenchi di coloro che soffruirono del trasporto privato. Anche una chat di gruppo che era stata attivata per comunicazioni di servizio. Tutti hanno confermato che l'uomo avrebbe rivolto con tine lusinghe e adulazioni nei confronti dei ragazzi. E ci spostiamo a Fasano, una storia lieto fine che ci arriva dallo Zoo Safari. Ryu, il gorilla triste dello Zoo Safari di Fasano, avrà presto una compagna con cui condividere le giornate, invecchiando insieme serenamente e tranquillamente. La condivisione della vita con un consimile dovrebbe scacciare, una volta per tutte, la tristezza dagli occhi di Ryu. Al momento, lo sguardo del gorilla non lascia spazio a dubbi. È triste ed infelice, ma il 2023 dovrebbe essere l'anno della svolta, come spiega il direttore dello Zoo Safari, Fabio Rausa. Avremo di nuovo degli incontri fondamentali che potrebbero fare la differenza e potrebbero portare finalmente a Ryu una nuova compagnia, direi una nuova compagna, probabilmente di pari età, per poter fare una vecchiaia più serena, più tranquilla in compagnia di un consimile. Qualche giorno fa l'associazione Meta Parma, impegnata nella tutela degli animali, ha comunicato di aver lanciato una petizione per liberare Ryu, ma il direttore dello Zoo Safari spiega perché questo non è possibile. Non è liberabile in natura, non ci sono santuari o oasi che possano accogliere dei gorilla, un gorilla anziano non può essere spostato dal suo habitat, che è qui da noi, in maniera così sconsiderata, senza prima valutare i lati negativi di uno spostamento per un esemplare anziano. E poi Ryu non è abbandonato a se stesso, conclude il direttore Rousa, perché vive in simbiosi con le etologhe che se ne occupano, così come i guardiani e le guardiane. Insomma, l'auspicio anche dello Zoo Safari di Fasano è che il 2023, appena iniziato, possa far ritrovare la felicità alla gorilla dagli occhi tristi. Ed ora ci occupiamo di sanità a Taranto, la medicina nucleare attiva nel fine settimana e si punta di fatto a ridurre i tempi di attesa per quanto riguarda l'esame PET fondamentale per i malati oncologici. Eseguire PET, esame fondamentale nella valutazione dello stato della malattia oncologica, anche nei fine settimana. Ridurre i tempi di attesa dei pazienti, poter giocare d'anticipo sulla malattia, guadagnando tempo prezioso. Per questo il servizio di medicina nucleare dell'ospedale San Moscati di Taranto sarà attivo anche nei fine settimana. La direzione strategica aveva già attivato dallo scorso novembre il servizio nelle ore pomeridiane infrasettimanali, riducendo i tempi di attesa passando da 70 giorni a 30, con possibilità di inserire gli esami più urgenti in massimo 10 giorni. A partire dal mese di febbraio, nei fine settimana, sarà attivato anche il servizio di medicina nucleare all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, per ridurre maggiormente le liste di attesa dei pazienti che devono eseguire scintigrafia miocardica da sforzo e a riposo. Una risposta concreta, dunque, al territorio ionico. Ed ora parliamo della pista ciclabile di Viale Aldomoro a Brindisi. Nasce un coabitato spontaneo da parte di cittadini, ma anche da parte di commercianti. Pista ciclabile di Viale Aldomoro, un tema che da tempo sta tenendo banco in città Brindisi. Al momento lavori fermi, la revoca da parte del Comune alla ditta. Però le polemiche non mancano. Come dicevamo, i residenti e i commercianti si sono organizzati in un comitato spontaneo di cittadini, hanno avviato una raccolta firme per chiedere una sostanziale modifica che garantisca sia la possibilità della presenza di una pista ciclabica, ma anche quella di parcheggi e che rischi di non intasare la viabilità cittadina. Dunque abbiamo colto l'occasione della problematica che è nata tra l'amministrazione comunale e la ditta appaltatrice. Praticamente la voi, sappiamo tutti, sono incominciati diversi mesi fa e ora sono praticamente sospesi per delle inadempienze. Ora, ci siamo costituiti in quanto riteniamo opportuno che il progetto venga rivisto completamente in quanto il tracciato, così come è stato predisposto, a nostro parere provoca dei problemi non indifferenti. Dobbiamo considerare una cosa, che Via Aldomoro è la principale e forse l'unica strada attrezzata e utile per raggiungere comodamente dalla periferia il centro urbano. È attraversata da mezzi di soccorso, è attraversata da mezzi pubblici e è attraversata quotidianamente da tante persone che vanno anche al mercato ortofrutticolo presente in zona. Ora, restringere la carreggiata per fare la pista ciclabile al centro lo riteniamo una cosa estremamente inopportuna. Nella comunità ucraina manifesta per la guerra russa, la protesta arriva nel centro di Bari e domenica, in occasione proprio della giornata dell'unità, gli ucraini residenti in città Bari si riuniranno in via Sparano per manifestare contro la violenza dello Stato oppressore e terrorista russo, così spiegano gli organizzatori. E ci spostiamo a Mesagne per un progetto destinato ai giovani. La stasi imposta dalla pandemia ad una ripartenza con il vento in poppa non è proprio un attimo, ma è possibile grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Puglia, assessorato al welfare, avviso Puglia Sociale 3.0, ottenuto dall'Associazione Musica Arte, che dà anima e corpo al Lab Creation incubatore che si trova nel centro storico di Mesagne. Obiettivo? Fare incontrare i due mondi, quello di chi si forma e quello di chi si impegna per creare le condizioni favorevoli alla nascita di posti di lavoro. Noi abbiamo immediatamente aderito al progetto proposto da Musica Arte e successivamente finanziata dalla Regione Puglia, perché riteniamo necessario investire sulla formazione. Nel caso specifico si formeranno giovani tra i 18 e i 35 anni, in un caso e nell'altro caso tra i 15 e i 50 anni, sul piano della progettazione. Sono destinati ad una ampia faceta, dai 15 ai 50 anni, per quanto riguarda il terzo settore. Ovviamente devono partecipare iscritti ad associazioni iscritte al RUNS, scusate il giro di parole, ma è importante perché altrimenti non potrebbero partecipare ai bandi se non fossero iscritti all'albo del terzo settore. Mentre per quanto riguarda la parte gestita per i liberi professionisti o comunque i cittadini in comune è da 18 ai 35 anni, perché vogliamo mirare una fascia abbastanza giovanile. Ed ora parliamo della pulizia a Lido Azzurro a Taranto. Gli operatori di Chimambiente sono intervenuti a Lido Azzurro per ripulire i tratti che affacciano sul litorale costiero, nell'area abitata e nelle strade maggiormente colpite da fenomeni di abbandono selvaggio dei rifiuti. Tra questi, quelli maggiormente raccolti, bottiglie di vetro, plastica di ogni tipo, intere distese di aghi di pino secchi sparsi sulle strade. Le vie sono state liberate e ripulite. Continua purtroppo, fanno sapere da Chimambiente, il fenomeno dell'abbandono di ingombranti, specialmente nei tratti che conducono alla spiaggia e nell'area della Pineta. Gli operatori specializzati hanno preveduto allo spazzamento e sono intervenuti con i mezzi dedicati. Non è la prima volta che l'attenzione di Chimambiente si concentra sul Lido Azzurro. Sono presenti le videotrappole che controllano costantemente il territorio della borgata ovest del capoluogo per monitorare e individuare i responsabili dell'abbandono selvaggio. Da qui l'appello del presidente Mancarelli e ai cittadini viene chiesta la collaborazione anche segnalando episodi che danneggiano il patrimonio comune e alcuni tratti di grande pregio paesaggistico come il litorale e le Pinete di Lido Azzurro. Insomma, un invito al senso civico per difendere una delle zone più belle del litorale ionico. E torna dopo gli anni della pandemia Brindisi la notte del Liceo Classico. Ospite l'attrice Giulia Vecchio. La bellezza come tema della settima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico celebrata come la tradizione presso l'Istituto Benedetto Marsola di Brindisi in un momento di festa tra studenti, famiglie e città. La notte è proprio classicamente quindi con quella che ovviamente ci ricorda il digitale perché siamo ben ancorati a quelle che sono le tradizioni del Liceo Classico perché sono garanzia di qualità e di spessore ma assolutamente aperte tutte le innovazioni e questa è una scuola che ovviamente fa tanto a livello di digitale, tecnologico rimanendo sempre ben ancorata appunto a quello che è la solidità della radice classica. Ospite d'eccezione è la nota attrice Giulia Vecchio ex Marzoliana che ha ritrovato tanti ricordi e lanciato un messaggio che guarda il futuro per i giovani studenti. Mi ritrovo in un luogo che conosco benissimo ma tra persone ovviamente nuove a raccontare qualcosa di me quindi spero di poter essere sincera e d'aiuto soprattutto. Il consiglio che più vorrei dare è formarsi cioè quando ho finito il classico sono stata molto determinata nel dire quali sono le accademie nazionali riconosciute che mi possono far diventare un'attrice a tutti gli effetti e quest'anno uscirà una serie a cui sono molto legata che si chiamerà Il Metodo Fenoglio tratta dei romanzi di Caro Figlio sto continuando a girare Un Passo dal Cielo che è sempre una serie della RAI Un momento di festa in particolare proprio per gli studenti brinisini che dopo gli anni della pandemia si sono ritrovati in questo momento di orgoglio classico tra passato, presente e futuro. Siamo felici di organizzare la notte dopo tanti anni di pandemia e questo ha dato l'occasione a mettere in scena tutto ciò che in questi anni non si è potuto mettere appunto in scena tutti i visitatori che ci sono questa sera è sicuramente una bella occasione anche per il ritrovamento per tutti i ragazzi della scuola. È giornata nera a Bari per quanto riguarda il traffico tre tamponamenti in tangenziale con diversi feriti un camion si è ribaltato addirittura dopo l'impatto in totale 12 i veicoli coinvolti negli incidenti stradali avvenuti nella tarda mattinata sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti tutti fortunatamente non gravi in ospedale per quanto riguarda il soccorso sono registrate anche lunghe code in direzione nord ed ora torniamo a riparlare di un altro purtroppo problema il covid in Puglia 395 nuovi casi e tre decessi tasso di positività al 7% questo è il boldettino calcolato nella giornata di oggi rimangono stabili i ricoveri per quanto riguarda le terapie intensive di questi sono in provincia di Bari 165 nella BAT 20 in quella di Brindisi 34 nel Foggiano 49 nelle CES 80 in provincia di Taranto 41 il tasso di positività si attesta invece al 7,12 sono invece tre i decessi legati al virus questi sono i numeri diciamo dell'ultimo bollettino disponibile ed ora invece ci spostiamo a Taranto per una magia la magia dei brani d'amore del cantatore italiano portato in scena a Taranto dall'attore Claudio Santamaria che è stato accompagnato per l'occasione dall'orchestra della Magna Grecia un attore completo che sorprende con il canto delle canzoni d'amore accompagnate magistralmente dall'orchestra della Magna Grecia diretta dalla maestro Piero Romano Claudio Santamaria ha incantato il pubblico della stagione eventi musicali all'Orfeo con una serata che ha fuso la magia della musica e l'interpretazione teatrale dando nuova luce a brani come la canzone dei vecchi amanti di Brassen quando dico che ti amo di Tony Renis storia d'amore di Celentano e poi Gaber Bindi Califano Tenco Indrigo Modugno e la PFM note parole che hanno ammaliato gli spettatori è stato un pubblico molto caloroso insomma io quando vengo al sud io sono mezzo lucano quindi siamo vicini di casa siamo cugini quando vengo dai miei cugini pugliesi sono sempre accolto benissimo un concerto dedicato al canto autorato italiano con una voce incredibile quella di Claudio Santamaria che unisce alla sua capacità interpretativa musicale anche quella teatrale è un valore aggiunto soprattutto per riascoltare brani celebri il cui valore testuale è importantissimo è un grande successo annunciato quello dell'orchestra della Magna Grecia in una stagione che ricorda i 30 anni e li ricorda con delle gemme puder come questa era la nostra ultima notizia e vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro buon sabato sera rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo per la cortese e Grazie a tutti